Sono Giovanni Rabbito, da Sydney, Australia. Devo dire che sono molto contento di partecipare a questa iniziativa del dottor Orazio Velastro e leggerò con molta attenzione e con molto piacere gli elaborati che mi verranno presentati e spero di dare un giudizio giusto e equo sul valore che sarò sicuramente molto lieto di leggere e di apprezzare. È un'iniziativa ottima, di gran valore per la Sicilia perché immagino sia capace di raccogliere testimonianze che potranno anche interessare in un futuro un grande pubblico. Io spero che questa iniziativa continua e cresca nel tempo. Grazie a tutti.